Come sostituire un solenoide? Mettere il programmatore in off per evitare che parta un ciclo di irrigazione. Chiudere l'alimentazione dell'impianto. Svitare un solenoide in pressione è pericoloso e può provocare lesioni. Svitare il solenoide, il cilindro con due fili, e verificare che il pistoncino sia pulito e si muova liberamente. È possibile testare il solenoide azionando manualmente la stazione dal programmatore e controllare se il pistoncino si ritrae quando è eccitato. Sostituire il solenoide se non funziona correttamente. Rimontare il solenoide sulla valvola seguendo l'ordine inverso a quello di smontaggio. Il solenoide deve essere serrato a mano. Un serraggio eccessivo può danneggiare l'elettrovalvola. Per questi e altri prodotti Hunter, visitare il sito www.hunterindustries.com Get Hunter Get Hunter